Amici, nuovo episodio della Skyblock che tanto vi sta piacendo e per questo vi ringrazio In questo episodio andremo ad esplorare nuove isole, l'altra volta ci siamo lasciati con la semi-esplorazione del Nether Oggi non lo so, magari possiamo andare nel Nether o magari no, lo vedrete durante l'episodio Io vi invito come sempre a lasciare un mi piace, un commento, condividere il video a tutti E... e... guardare in descrizione Perché c'è il link del server Discord Siamo già in tantissimi, ma signori più siamo e meglio è Tra l'altro si può anche giocare a Pokémon, ma vabbè lasciamo perdere, lo vedrete quando entrerete nel server Ma adesso, bando alle ciance o ciance alle band, iniziamo, che hai detto un po' particolare Oh, guardate dove siamo spawnati Ciao amici, guardate quanti sono C'è il pandino, ci sono le pecorelle, i pappagallini che mi avete detto di dargli il cacao, mi sembra Oddio, ma perché ogni episodio devo stare a fare il... che carino che sei Cioè mi costringi, sei troppo carino Eh, ti do da mangiare il pane Oh, stai attento Ovviamente mi avete anche detto che bisogna dargli da mangiare il bambù e non il pane E per questo vi dico, è vero, sono un idiota totale Ma come stiamo osservando con molta gioia e garbo nel cuore Abbiamo esplorato moltissime isole Come ricorderete dall'ultimo episodio, ci hanno attaccato i Pillagers I nostri nemici della vita Perché anche nella mia serie vanilla, cioè mi attaccano sempre loro Per chi gli si fosse perso la mia serie vanilla La vado a recuperare, tanta roba E oggi sto correndo a caso, ma il mio intento è di andare ad esplorare altre isole O meglio, possiamo iniziare ad esplorare queste qui dietro Quindi guardiamo quanta pietra c'ho Ne ho pochina, beh 64 Non credo basti più di tanto Quindi, oh mio dio quanta roba c'ho Ah già che avevo rubato anche un alto forno Guardate quanta roba Lingotto di ferro, eh c'è un po' di roba Mi ero completamente dimenticato Quindi mi vado a craftare gli ultimi slabs E direi di iniziare con la nostra avventura verso quest'isola Non c'è più di tanto Tra l'altro, nell'ultimo episodio Vi avevo detto di scrivermi dei suggerimenti Riguardanti a cosa avrei potuto fare Darmi degli obiettivi appunto per questa mappa E me ne avete scritti alcuni in realtà Alcuni sono infattibili del tipo Fai una farm di pesca Ok, non so se era un modo per dirmi Vogliamo una farm di pesca Oppure appunto per dirmi fai una farm di pesca Però credo vivamente che al momento In questo mondo sia impossibile L'ho fatta nella mia serie vanilla Funziona, vi invito ad andare a riprendere anche quella Perché so che la farm di pesca serve a molti Soprattutto adesso che le stanno fixando E quindi diciamo che è cosa buona e giusta È veramente cosa buona e giusta Come dicevano in chiesa quando ci andavo da piccolino Vi ricordate che dicono è veramente cosa buona e giusta Ma vabbè stiamo divagando Siamo arrivati nel parlare Tra una risata e l'altra Sulla nostra bella amata Isola Ora ci facciamo due scalini Stuc, stuc, stuc E tatan Bonjour, mon amour Mon amour La terra la buttiamo Perché mi dava fastidio Salve pecorella E soprattutto salve alberello Perché non ho più di tanto legno Quindi me ne voglio farmare un pochito Tra l'altro signori sono triste Non sembra perché sono sempre vivace Allegro Salve Che spawner è? Di pecore? No, di streghe Che simpatica situazione E io ti invado d'acqua Ok, e tu ora rimani lì bloccato nell'acqua Eh, come la mettiamo? Eh, lo tengo per ora lo spawner Non mi dà troppo fastidio Però stavo dicendo Che mi dà fastidio Il fatto di Aver probabilmente Oh mio dio Ho perso l'ascia Vabbè Dicevo Aver probabilmente perso Un video che ho registrato Ed era divertentissimo Perché youtube infame Per te solo le lame Non mi fa caricare il video Ora Io spero che in generale Mi faccia caricare i video Perché Appunto come avete notato Qualche giorno fa Non ho caricato il video Però Andatelo a dire al buon youtube Che ha deciso appunto Di non farmi di caricare Non chiedetemi perché Non chiedetemi per come So solo che Ero lì bloccato Nella mia tristezza Del non poterli caricare Pensavo fosse il cielo Oh mio dio Che cacchettina Che mi è venuta Ora Sto esplorando un po' Alla Carlona Ma sembra che non ci sia niente Quindi è semplicemente Un'isola vacante Ma voglio andare lì Yeah boy Voglio andare lì Perché Mi spi Dai Sono morto Come un pollo Signori Questo è il giorno Più triste Della mia vita Dai Ora devo rifarmi tutto Non ci credo Sono morto Come un'idiota totale Almeno non avevo portato Con me il ferro Dai Sono triggeratissimo So che voi Ora starete ridendo Ma io sto piangendo Dentro Signori Dai Oh mio dio Allora rifacciamoci Utensil Sono Sono abbattuto Appunto Già vi stavo dicendo Che non mi carica il video Ed ero triste Immaginate ora Quanto posso essere triste Non c'ho neanche più Le torce Dai Non c'ho neanche più Il carbone C'è ne ho pochissimo Se cado ancora Chiudo la serie Tranquillamente Proprio ve lo dico Con nonchalance La chiudo per sempre Allora Non avevo voglia Di farmare la pietra Quindi ci facciamo Il tutto Con la cosa Qui Come si chiama Con legno Ora Master Stai attento Perché Proprio Sei Un Idiota Totale Cioè Pensavo di aver fatto Tutto bene Non morendo Invece no Però Intanto Ci siamo trovati Il ferro Quest'isola Mi sa tanto Di sì Ok Hai appena perso Tutto Ma io ti ricompenserò Tra l'altro Non so se ve l'ho già detto Perché ho la memoria corta In caso ve l'avessi già detto Taglierò questa parte Mi sono comprato Minecraft Java Edition Per il computer Non tutti lo sanno Alcuni lo sapevano già E voi direte Ma come facevano a saperlo già Perché Ne abbiamo parlato Nel mio server Discord Che link in descrizione Chi volesse entrarci Sono tutti ben accetti Ci divertiremo un sacco E soprattutto Ci sono i pokemon Quindi che fai Te ne privi dei pokemon Eh no che non te ne privi Quindi appunto Per ora Finisco la skyblock Qui sulla play Perché ormai l'ho iniziata qui Mica la interrompo Perché voglio arrivare Fino in fondo Soprattutto Di questa mappa Che mi sta piacendo molto Voglio arrivare fino in fondo All'uccidere questo ragno Che fastidio Che schifo I ragni E appunto Dicevo Prima di questa mia Mini scleratina Che farò delle serie Moddate O comunque delle robe Particolari Anche su computer Quindi scrivetemi Tutte le idee Più assurde Che avete E io Provvederò a portarvele Anche qualche mappa ctm Quelle lì Sì che mi piacciono Le mappe ctm Mi piacciono Un casino Speriamo ci sia Qualcosa di interessante C'era un pezzo di ferro Cioè basta Mi hai dato un pezzo di ferro E basta Davvero isola Davvero isola Mi hai dato solo un pezzo di ferro Cosa state facendo Cosa state facendo Volpi Si stanno facendo Il falò E non mi invitate Al falò Di gruppo Guarda come mi guardi Ma stiamo scherziamo Cioè io mi sono Offeso Io mi sono Pesantemente Offeso Ok Va bene Non invitatemi Fate finta che io Non esista Intanto io vi rubo Tutto il legno Possibile Non tutto Perché non ho voglia Di stare qui A perdere tre ore Ma ve ne rubo Un bel po' Quindi state attenti Non so Io gli do un'esploratina Vedo se c'è qualcosa Ma onestamente La vedo un po' dura Purtroppo Aggiungeremo Purtroppo Però dai Non puoi darmi solo Un blocco di ferro E non darmi nient'altro Vabbè Sembra che non ci sia nient'altro Quindi Io direi di andare Oh Cosa abbiamo davanti Ai nostri occhietti Un creeper Un creeper Allora abbiamo visto tutti Che lì è pieno di diamanti E siamo tutti contenti Quindi direi di allontanare Allontanarci Da quest'isola Cioè perché io sto facendo Sta cagata Oh io c'ho paura Oh io Io c'ho il cuore debole Qui eh Ok lì c'è l'isola Dei diamanti Però Preferisco andare a dormire Ok Salve signora strega Salve Ecco lo sapevo Lo sapevo che finiva in tragedia Lo sapevo Vai via Eh ma io ora ho paura Piano Piano Oddio molto piano Molto piano Molto più piano Di quanto pensavi all'inizio E io direi Ah ma il c No Abbiamo perso i panini Non ci credo mai Ecco cosa ho detto Infatti mi mancava qualcosa Allora maialino Sai che sarà la prossima vittima Eh purtroppo si Sapete signori Avevo in mente Di chiudere l'episodio Qui così E dirvi ci vediamo Ci vediamo alla prossima Ma non sono un infame Quindi signori Diamanti a volontà Diamanti a volontà Cioè guardate quanti Oh mio dio Cioè se li trovassi Non lo so In una serie vanilla Così tanti Probabilmente Piangerei lacrime di gioia Guardate quanti Cioè possiamo farci armature Armi Case di diamante Si spera Anche lapislazzuli Perfetto In caso si possano Incantare cose L'oro Che è bellissimo Cioè in quanto Quanto è passato 10 secondi Abbiamo 20 diamanti Ok 20 diamanti In 10 secondi Record mondiale Battutissimo Cioè guardate quanta roba So che per i vostri occhi È una goduria E onestamente Anche per i miei Però mi voglio mettere qui 5 minuti Proprio una cosa veloce Prendere un bel po' di materiali E poi in caso si Che concludiamo l'episodio Perché se nelle altre isole Non c'era più di tanto In questa isola Devo ammettere Che c'è fin troppo Quindi Diamanti alla mano Mi voglio prendere Un bello stack Cioè guardate qua Va bene Va bene signori Sono nel paradiso Dei materiali Il paradiso Dei materiali Non finiscono più Oh mio dio Gesù Oh attenzione Attenzione Ho trovato uno spawner Di credo ragni E roba interessante Il carbone Le corde le prendiamo Sì dai le prendiamo Ma soprattutto Lo spawner Signori Ho deciso di fermare qui La mia scavatura Perché Erano fin troppi diamanti Ne ho presi esattamente Uno stack E dodici Quindi Settantasei Direi che può bastare così Anzi Anzi Per sfregio Per sfregio Alla ricchezza Guardate cosa faccio Stuck Addio diamante Sei stato sacrificato Con onore Quindi signori Dall'isola di diamanti È tutto Io mi tolgo le cuffie Come alla fine Di ogni episodio Mi sistemo Anche un attimino i capelli Perché c'è da sistemarsi Non me li vado a tagliare Da una vita Speriamo che i barbieri Riaprino a presto Ma questo non vi interessa Io vi ringrazio per la visione Spero che il video vi sia piaciuto Vi do appuntamento domani Alla solita ora Ovvero alle 2.45 Con un nuovo video E speriamo che anche quello Sia molto diamantoso Ciao Ciao